Allora io conto fino a tre poi diciamo tutti insieme www.mangowave.org va bene mi raccomando punto org ma che è sto sito signora cosa le cambia per favore ma infatti signore è un sito di un gruppo che cosa stai facendo allora mi raccomando 1 2 3 vado oh e che devo dire no no aspetti un attimo signor niente è malato proprio allora mi raccomando è 1 2 e il cellulare scusate ma allora che stiamo a far qua ciao bellissima allora allora mi raccomando questa volta nessuna interruzione va bene allora 1 2 3 a a a a a a a Grazie per la visione!